E' stata presentata a Milano la ventesima edizione del congresso nazionale AIPO, Associazione Italiana Pneumologi e Ospedalieri, che si svolgerà a Firenze dal 13 al 16 novembre prossimi. Un'occasione per fare il punto sulle malattie dell'apparato respiratorio che rappresentano la terza causa di morte assoluta e una panoramica sulle novità più rilevanti e sui nuovi trattamenti presto disponibili. Ne abbiamo parlato con il professor Venerino Poletti. Dal 13 al 16 novembre si terrà a Firenze il 45esimo congresso di pneumologia dell'Associazione Italiana Pneumologi e Ospedalieri, di cui io sono presidente. Il tema conduttore del congresso è la globalizzazione, quindi il confronto nazionale e internazionale fra esperti o interessati alle malattie dell'apparato respiratorio, come questo confronto aumenti la possibilità di fare ricerche innovative, di condividere esperienze e di migliorare la prevenzione e la cura delle malattie polmonari, malattie che sono comunque importanti dal punto di vista epidemiologico e dal punto di vista clinico perché rappresentano dalla terza alla quinta causa di mortalità nel mondo.